Si chiama saldo migratorio, tra le persone che escono dal centro storico e quelle che entrono. Il saldo migratorio è quasi leggermente positivo, nel senso che sono due o tre persone, ma è positivo. Non c'è gente che esce, non c'è da trattenerci, non vanno da nessuna parte. E si dice, ma allora perché continuano a calare? Perché muoiono. Muoiono, le persone muoiono. È una città vissuta da molte persone anziane, l'Italia è il paese più vecchio del mondo e le persone stanno morendo. All'indomani dei dati diffusi dall'osservatorio civico sulla casa e la residenza, che vedono a Venezia più posti letto per i turisti che i residenti, il sindaco Brugnaro replica dunque così, aggiungendo che il problema non riguarda solo il centro storico. In tutto il comune di Venezia, ma non solo Venezia, in tutte le città, guardatevi i dati demografici, i numeri stanno calando. La città di Venezia, comune, non città storica di Venezia, scenderà, eravamo 260.000 abitanti, scenderà sotto i 250.000. Ma è questo del trend di tutte le città, sono pochissime quelle incontroverte. Per cui diciamo le cose vere. Qui non si tratta di trattenere i cittadini che stanno andando via perché non è vero, non va via nessuno. O chi va via comunque è compensato da chi rientra. Il problema è attirarne di nuovi e il progetto che noi abbiamo lanciato è questo del raddoppio dell'università. E mentre la città si spopola, domani si prevede un consiglio comunale infuocato sul contributo d'accesso su cui il sindaco al momento preferisce non sbilanciarsi. Quello che dico ai cittadini veneziani, siate orgogliosi perché sicuramente non è mai stato provato in tutto il mondo una cosa del genere. Se vogliamo difendere la città dobbiamo avere il coraggio di fare delle cose. Non sarà mai un ostacolo ai cittadini alla vita dei cittadini. Credo che ci voglia un po' di moderazione quando si fanno le cose e bisogna avere anche un po' di fiducia, trasmettere anche un po' di fiducia. I dubbi, le preoccupazioni, le critiche però sono legittime, ci stanno, ce ne ho anche io tanti. Poi una volta fatto o no, solito i dubbi si fa e si sceglie.